segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te posso dire una battuta se mi è permesso io pensavo che fosse stato fatto dato che a malmo hanno costruito il collegamento fra la danimarca e la svezia e in giro per il mondo compreso singapore ci sono collegamenti molto più complessi invece da noi non è stato fatto vicino a questo problema di fare il ponte o non farlo si può passare il resto della nostra vita io non ho passato già una grande parte e da sempre si è parlato di questo il ponte è necessario per collegare l'italia all'italia cioè la sicilia è l'italia non è altra cosa dell'italia l'altra cosa però importante da dire che noi non abbiamo la voce manutenzione cioè nei nostri calcoli nelle nostre analisi economiche non c'è mai la voce manutenzione i nostri edifici crollano vanno giù non hanno capacità di essere ristrutturati perché non c'è mai un budget che è previsto per la manutenzione la manutenzione non è fatta per gli edifici storici non è fatta per gli edifici moderni e contemporanei c'è un problema enorme di manutenzione perciò il ponte mi sembra veramente ovvio che che si deve fare non ne vorrei spendere una parola in più perché mi sembra che che serve io non capisco perché per andare in sicilia uno ci deve mettere quanto è 14 ore 12 ore ecco sembra un po troppo le domande conoscendo anche il nostro paese grandi opere e manutenzione sono due alternative o secondo lei si possono conciliare da una parte realizzazioni di nuove infrastrutture anche faraoniche come il ponte e dall'altro quella tutela del territorio a cui faceva riferimento frato gli anni così lei qualche volta andrà dai medici per farsi fare un check della sua salute del suo modo come sta ecco noi lo dovremmo fare su tutti gli edifici noi abbiamo i ponti e abbiamo i viadotti abbiamo quasi tutte le opere di cemento armato che sono vecchie oltre 50 anni questa cosa porta al rischio come è successo della caduta di queste opere cioè le opere vanno manutese come si dice non conosco non c'è questo verbo in italiano forse dovrebbe essere brutto manutenute ma forse sottoposte all'opera di manutenzione è più bello è orreddo manutenute ecco però la verità che queste opere devono essere assolutamente essere tenute in conto cioè il cemento non dura più di 20 25 anni questo è chiarissimo perciò dopo 20 25 anni l'opera ogni giorno ha il rischio di crollare allora e l'onora e l'onora